Ciao di nuovo, se vedi c'è i bloggers nel background, c'è la prima blogger che porta i capelli cortissimi e stanno preparando una poltrona, un pontrone in mezzo al campo di là questo destination wedding in Tuscany, veramente bellissimo, un lavoro particolare e dopo passeremo ad altri due sposi, una raccolta un po' sextess e dopo l'altra ancora ad arrivare da New York. Ciao a dopo!